È cominciata da poco l'attività di manutenzione straordinaria del verde urbano a Cremona. Verranno effettuati abbattimenti di piante secche, in parallelo le tanto attese ripiantumazioni. 300 piante con altezza tra i 3-4 metri verranno collocate in città, 2.600 piccole piante invece in quartieri come Cambonino, Villetta e San Felice per costituire aree boschive. Il piano ripiantumazioni è diviso in due tipologie, quindi piante pronto effetto, che sono le classiche piante che vengono posizionate in ambito urbano, nei parchi, nelle vie, piante circa di 3 metri e mezzo di altezza. Saranno 300 piante che verranno posizionate in ambito urbano sulla città. In parallelo parte anche il piano piantumazioni di tutte le aree boschive urbane, quindi sono state individuate principalmente tre aree nei quartieri Villetta, San Felice e Cambonino, dove andremo a posizionare circa 2.600 o qualche cosina di più di piante d'area boschiva, che servono sicuramente per la microfauna, per lo sviluppo di ambienti il più possibili vicini alla naturalità, ma che fungono anche naturalmente come polmone verde e come assorbimento di CO2 e di polveri sottili. Saranno collocati vicino a vie di transito molto trafficate, quindi servono appunto per, in qualche misura, migliorare la qualità dell'aria. Dobbiamo anche lasciare il tempo che crescano, quindi sicuramente la loro azione comincerà fin da subito, naturalmente più passerà il tempo, più passeranno gli anni e più naturalmente la loro azione di mitigazione e di pulizia dell'aria aumenterà. Quanto al capitolo potature, l'assessore Luca Zanacchi rassicura che si tratterà di sfoltimenti e non di capitozzature. Il piano potature coinvolgerà 1.435 piante sulla città, è già partito, e naturalmente sarà più intenso in alcune zone della città dove alcune vie hanno proprio bisogno, perché ci sono delle vie come via San Francesco, come via Ghinalia, se non sbaglio, sono andando a memoria, che hanno bisogno, i cittadini hanno da tempo segnalato e quindi si interverrà su queste vie.